Le grandi voci del cinema Cosa stai facendo? Fammi uscire! No! E quando sei cambiato? Cinque minuti fa. Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Mi occupo di stime e analisi di opere d'arte, di grandi artisti del passato. Per me è un lavoro straordinario. Ti avvicina alla sensibilità creativa dell'artista. Apri gli occhi. Sto volando! Jack! Francamente non avevo mai pensato a una bizzarria del genere. Forse la ricchezza ti porta a queste cose quando hai tutto quello che vuoi. Ditelo insieme a me. E questa casa è nostra. Questa casa è nostra. Questa casa è nostra. Questa casa è nostra. È strano. Vorrei dire che se il vostro libro dice la verità, riceverò una chiamata da qualcuno. Chiara Colizzi in Life. L'onore, il piacere di lavorare con una persona grandissima che è un'attrice straordinaria. Grazie. È veramente un grande onore lavorare con te. Benvenuta nel cast di Life. Benvenuta. Grazie per avermi accolta. Perché mi chiami Chiara? Io sono Tamara Brown. Per questo ti ho restituito tutte le emozioni. Perché io sono Tamara Brown in Life, in live in questo momento. Saluto tutto il pubblico che ci vedrà e avete visto che Uniti ce l'abbiamo fatta e Uniti ce la faremo. Audio Movie La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film, solamente che le immagini le mettete voi. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Dell'alma ma della disperazione. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Mi dispiace ma io non mi fermerò. Con l'Audio Movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando. Grazie a tutti.